Ciao ciao a tutti e benvenuti nel canale di Nina. Oggi incominciamo la gattosa con un 50 per. Ok questo è lo 00 della serie 10. Vediamo il primo di un pacco. Biglietti insolito per me e vediamo da un po' che non l'ho portato. Ogni tanto bisogna anche provarci con questi grossi anche se non è di mia abitudine. Vabbè allora bastiamo un'altra calcata. Buona visione a tutti amici e cominciamo a scoprire i numeri di gente. Allora cominciamo con un 31, 13, 51, 30, per 5 abbiamo 18, per 10 abbiamo 36. Ok il primo numero ci dice 56 che non c'è. Abbiamo 53 abbiamo 51, 11 niente, 38 non c'è e 41 abbiamo il 51. Continuiamo con un 29, 21 niente, 22 babarelli niente, 26 non c'è, 44 gatti neanche e 48 non c'è. Qua abbiamo 32 abbiamo il 51, 32 niente, 42 niente, 21 c'è sempre il 51, il 51. 24 non c'è, 24 non c'è, 24 non c'è, 24 non c'è, e 19 c'è il 18, per 5. Ultima riga abbiamo 12, c'è il 13, 23 niente, 52 c'è il 51, 54 non c'è, ultimo numero, 37. Sfioriamo il bonus per 10. Ecco qua, la vostra linea che ha tagliato il 50 niente, non mi sento, è quello che vedo io, le controllerò con l'applicazione, ma per il momento anche per dopo sarà perdente. Ok, comunque continuiamo la nostra cartatina e passiamo a una battaglia navale. Questo è il numero 34 della 053. D4, poi abbiamo H2, acqua, H5, ok, H4, poi abbiamo C7, acqua, B5, acqua, F7, F6, niente da fare, questo è quello da 4. abbiamo C5, ultima coordinata, D3, niente da fare amici, D3, per il momento non è vincente, vediamo lo scrignetto, così nasconde lo scrigno, niente da fare, battaglia non vincente. Ok, allora numero 34, battaglia non è vincente. Passiamo alla seconda battaglia, numero 33. Allora, prima coordinata E4, cominciamo ancora da 4, H1, sotto quello da 2, F4, B4, E6, qua abbiamo B4, Titanic, F6, qua abbiamo B4, Titanic, F6, B4, A1, ultima coordinata, A3, niente da fare, abbiamo preso una barchettina piccola che ci dice, 10 euro, ok, 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 numero 33, c'è già da 10 euro con la barchettina piccola, se non ho sbagliato niente, penso che non c'è niente altro, comunque ricontrollerò, ok, passiamo all'ultimo bullotto di oggi che è il numero 32, F2, cominciamo con i Titanic, D2, continuiamo con il Titanic, C2, E4, C5, F5, abbiamo B4, A3, A4 doveva essere, B3, niente, questo è il fratello del Titanic, ultima coordinata, F4, 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 niente, battaglia, per il momento non mi interessa, vediamo la scrignetta, e va bene, è andata così, almeno un po' di recupero l'abbiamo fatto, abbiamo grattato, un bigliettino, un bigliettone, un biglietto da 50, un 50 euro da 10 euro volevo dire, che non è bucente, uno da 10 e tre da 5, dunque, abbiamo ripreso 10 euro con la battaglia navale numero 33, e questo è il nostro recupero di oggi, e dobbiamo essere pure contenti, almeno non è finito a zero cari amici. Ok, vi ringrazio tutti per la visione, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao, un bacio e un abbraccio alla Lina, spiegatevi, condividete il polluto in giù. Ciao, continuate a richiedere che presto tornerà il video dedicato. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.